Un sentito ringraziamento a tutte le nostre corsiste che hanno partecipato al corso Torte di Primavera dove hanno potuto apprendere la preparazione di impasti, creme per farcitura e decorazione. Hanno provato a realizzare con successo un effetto cesto con vari beccucci. Hanno appreso come colorare le creme e come poter sfruttare alcuni effetti con beccucci speciali e hanno provato ad applicare queste tecniche su torte vere ottenendo un ottimo risultato. Tutto il contenuto del corso verrà anche fornito in formato video per permettere ai corsisti di rivedere i vari passaggi e replicare le ricette mostrate. Se vuoi partecipare ai prossimi corsi dal vivo di torte italiane segnalaci il tuo interessamento alla mail dedicata corsi-italiancakes.it Grazie per la visione! Grazie! Grazie a tutti